Ciao a tutti ragazzi, io sono MineForce e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo nel secondo episodio di Poppy Playtime 2, o meglio capitolo 2. Iniziamo subito. E ora che si fa? Allora vedo una mano verde sul treno. Non succede niente perché mi serve una mano verde. Giustamente. Allora vediamo di giocare con queste leve. Vediamo che succede. Sta parlando Stella. Musical Memory. Di qua. Oh, dove sto andando? Aspetta. Non vedo niente. Ah, sono caduto. Ok, quindi di qua. Dove mi avete portato? Attiviamo questa leva. Ok. Ora questo? Ah, ok. Devo riparare il tubo. Ok. Vai. Mi sta creando la mano. Ora questo pulsante qui. Aggiunge il colore. Ah, non c'è pittura nella macchina. Vediamo che possiamo fare. Ah, ecco il contenitore di pittura. E lo mettiamo qui. Ottimo. Ora dovrebbe andare. Perfetto. Vai. Perfetto. La cassetta. Ah, possiamo trattenere l'elettricità con la mano verde. Qui? Sì. Entriamo. Ok, raga. Che sta succedendo? No, non fatemi brutti scherzi. In questi condotti già ho avuto una brutta esperienza. Ah, dove? Ah, non ho l'elettricità con la macchina. Caputo. Uno schermo? Ah, raga. Welcome to Musical Memory. Esatto. Devo stare focalizzato. Non devo perdere. Quindi ogni volta che sbaglio, quel pupazzo si avvicina sempre di più a me. Scusate se li chiamo pupazzi, ma non mi ricordo mai i nomi. Ok, quindi mi devo ricordare la sequenza dei colori. Mi ha fatto di nuovo visita alla tizia elastica. Oh, ma si sta avvicinando già. Ok, nel caso perdessi, mi mangerebbe questo pupazzo. Ok, giallo. Ok. Blu. No, aspetta. Ah, giallo. Blu. Ok, scusate. Giallo, blu, verde. Giallo. Blu. Verde. Ok. Giallo, blu. Verde. Yellow. Giallo. Blu. Verde. Yellow. Non so perché ho detto yellow. Vabbè. Giallo. Blu. Vabbè. Verde. Giallo. Giallo. Oddio. Va anche a tempo. Round 2. Rosso. 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 Verde. Rosso. Verde. Blu. Rosso. Verde. Blu. Rosso. Verde. Blu. Blu. Rosso. Verde. Blu. Blu. Rosso. Blu. Rosso. Verde. Blu. 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 Viola. Rosso, verde, blu, blu, blu Dov'è il viola? Dov'è il viola? Qui Oh mio dio per poco raga Terzo round Bianco Bianco, bianco Bianco, bianco Arancione Bianco, bianco, arancione Bianco, bianco, arancione Arancione Bianco, bianco, arancione, arancione Verde, bianco, bianco, arancione Arancione, verde Ok Bianco, bianco, arancione, arancione, verde, giallo Bianco, bianco, arancione, arancione Verde, giallo Quarto round Blu Blu, jay Oh, ok Blu, jay Blu J Cuore Oddio raga Blu, jay Cuore J Blu J Cuore No, ho sbagliato Blu J Cuore J J Cuore J Pi greco Ok Blu J Cuore J Questo Sì Oh mio dio raga è stato difficilissimo Quinto round Oddio No, no raga è impossibile È impossibile, che faccio? Si sta avvicinando Che faccio? Raga Oh Ok Ho mandato in tilt il sistema Per pochissimo Mi ha mandato nel panico raga Ok, visto che ce l'ho fatta mi dà qualcosa Che cosa? Ah, il codice del treno? O almeno parte di esso? Vabbè, ha fatto capire che mi romperà il c***o in altri modi Oh Oh Ma che è una trappola? Sono caduto Cos'è qui? Un condotto Non mi piacciono i condotti Raga Tutto troppo silenzioso Sta per succedere qualcosa? Aiuto Cos'è questo rumore? Raga, sta per succedere qualcosa di brutto Aiuto Aiuto Oh Una stanza piena di giocattoli Ma se mi butto da qui muoio Vabbè Andiamo Quindi che si fa? Sembra una versione horror di Toy Story Ma non è che questi giocattoli prendono vita? No sai, non vorrei trovarmi nei pasticci E ora dove mettiamo la corrente? Devo spostare questo giocattolo? Ah, mi sa che la corrente deve andare lì Vai No! Mi sono incastrato, ovviamente Vai Ok No, si è spento Ah, quindi devo prima spostarlo Così posso spostare quel giocattolo pesante E ora spostiamo questo giocattolo Vai, via dai coglioni Perfetto Saliamo Cioè alla fine bastava un piccolo salto E riuscivo comunque a passare Però vabbè Complichiamoci la vita Bene ragazzi Per questo episodio è tutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un like E un commento Iscrivetevi al canale Attivando la campanellina Io vi saluto E ci vediamo al prossimo video Ciao